ragazzi benvenuti sul mio mod pack finalmente l'ho aggiornato versione 2 rilasciata sul canale italiano 24 mod per ipixel tutte accettate e regolari su ipixel questo è il mio client ed è meglio secondo me dal badlion client vi spiego anche perché a breve e adesso vi faccio vedere tutte le feature uniche nonché vi faccio vedere subito l'elenco delle mod così non ve ne andate direttamente qua guardate ragazzi e facciamo così minecraft lasciamo il catturo a schermo andiamo qui e boom questo è l'elenco delle mod c'è in game server ok parliamo di una ad una in game server switcher block overlay glint colorizer pons iniziamo con queste quattro in game server switcher block overlay e glint colorizer quindi boom ok in game server switcher è questa ragazzi server list eccola qua siamo fermi sui pixel ok poi block colorizer è questa qua vedete che cambia colore cambia adesso è rosso glint colorizer block colorizer forse era questa si e poi c'è l'altra che era block overlay non mi ricordo più faccio vedere così cattiva memoria block overlay e glint colorizer ok glint colorizer è questa qua questa è la block overlay mod da qua si vede perfettamente si fa l'overlay del blocco così si vede dal limbo e voilà e l'altra hub è quella che avete visto nell'inventario perfetto poi abbiamo la pawns toggle sneak la sidebar mod e la wings mod ok wings mod le ali pawns toggle sneak è la è la mia toggle sprint option controls chat dovete andare qua su toggle sneak questa ragazzi questa toggle sprint funziona meglio della toggle sprint di creata da orange marshall che è dal mini ipixel ho settato il tasto to ap qua vedete in basso destra so chi l'ha già visto andrò veloce perché si vedrà il mio client versione 1 qua in basso sotto la bussola ci sono tre lineette e come dire sprint toggle solo che non si vede il mio schermo più pulito quindi boh fatto slash toggle sprint e toggle ts oh no oh no sto finendo sul team speak di ipixel non mi ricordo più c'è un comando per selezionare tipo tutte le opzioni della toggle sprint lo vedete nel versione 1 client che lascerò magari collegata a questa così volete vedere i dettagli su come settare le mod non le ripeto in continuazione comunque si può settare un tasto per correre mi raccomando dovete ecco qua control toggle sneak option eccola qua non l'avevo dimenticato ecco qua dovete togliere questo toggle sneak che non è non è permessa su ipixel ovviamente tanti cheat non vi banno potrebbe bannarvi manualmente un admin comunque è vietata questa l'unica cosa che va disattivata comunque questa a differenza della mod di orange marshall non si bugga quindi è meglio di quell'altra mod e anche il keep sprinting nella fly quindi molto molto meglio non so se il bad lion client permette qualcosa del genere ma questa è la customizzazione massima per quanto riguarda la toggle sprint poi abbiamo sidebar mod remamp wings mod ok sidebar mod sidebar mod vado più veloce che posso enabled disabled qui come background io ho tutto 0 perché come vedete così reset 0 io non voglio così poi togliete i red numbers ed è fatto così ce l'avete con me è molto molto più pulita nello schermo poi abbiamo auto gg auto tip chat triggers allora auto gg quando finita una partita degli skywars per esempio vi dice automaticamente gg se vincete o se perdete auto tip ragazzi è quella che mi fa guadagnare esperienza solo stando in partita tippando i player slash tip questo comando qua tip all ve lo fa in automatico io ho fatto tippato un player adesso in un game differente mi ha dato dell'experience di ipixel e ha più settings potete ad esempio far vedere che vi fa vedere i messaggi in chat o che non lo fa vedere in chat questo solo su ipixel ovviamente e se fate ad esempio una marea di experience questa feature è disponibile gratuitamente per di mvp plus plus quindi quelli che pagano un tot ogni mese per avere l'mvp plus plus e oltre a quello hanno anche una marea di altre features ma questa qua dell'auto tip si può avere con la mod semplicemente avendo la mod invece che avendo l'nvp plus plus quindi perché no e funziona e anche ipixel ha annunciato che è legale è permessa e gli piace quindi va bene poi abbiamo chat triggers ragazzi chat trigger è la mod che vedete che in alto a sinistra mi permette di avere i view count e io ho due versioni della chat triggers ovvero quella vecchia e quella nuova una è la ct e l'altra ctj imports adesso non so i dettagli comunque li avete visti inizialmente nella schermata cercherò questa volta di provvedere con un download del mod pack tramite sito esterno per esempio vi do una lista dove scaricare poi dal sito di eventuali proprietari ogni singola mod magari mi aiutate nei commenti così facciamo prima e questo ragazzi serve innanzitutto come vedete allora vedete in alto a sinistra bluefiregaming youtube stop quello lì è un chat trigger si fa trigger imports triggers imports e poi si fa tr import youtube stats quindi tr import stats youtube o youtube stats proprio scritto così ok poi fate anche i pixel utili fateli tutti questi sono utili soprattutto il quest map anche che tracca le quest degli skywars quest tracker e quest map xp alper anche è carino ma sparty non l'ho mai provato ci sarà occasione soprattutto questo youtube stats è quello che uso per questo esatto esatto e boom fatelo poi ragazzi vado di nuovo su obs così riesco a farvelo vedere tolgo minecraft andiamo qui io vado su chat triggers imports voilà adesso scrollerò molto piano e vedete che ho tolto delle cose rispetto all'originale tipo il sub count quindi boom qui bisogna inserire il vostro youtube channel tramite apis abbastanza complicato ma se lo volete così come l'ho fatto io vi scorro piano e voi ve lo settate ok ok adesso non andrò fino in fondo con i dettagli comunque molte cose sono uguali però ci sono delle cose da cancellare delle cose e boom queste sono per muoverlo basta che le fate in game yt display move se non sbaglio down basta seguire questi comandi qua per muoverlo destra a sinistra nello schermo si può fare anche 0,1 tipo per dire e boom fine avete visto tutto torno su minecraft ok quella è la parte difficile per il chat triggers vecchio però l'unico modo per averne due è usare quel blocco documenti lì se lo volete se no schippate questa fase passate alla prossima mod prossima mod ragazzi è la chat triggers vi faccio vedere direttamente la chat trigger nuova basta fare tr eutube display no solo solo yt display con lo spazio ecco qua ci sono tutte le altre info per settare l'altra che è quella in basso così le avete tutte e due ok per chi le vuole poi abbiamo chroma HUD chroma potion e memory fix allora chroma HUD sto usando una versione un po' vecchia mi permette di settare questo in realtà in questa scritta discord facendo new element chroma potions sono le particelle arcobalene adesso io le ho settate tutte su bianche come vedete tutte le particelle sono bianche e boom e potete settarlo particleess no questo è un nuovo menu che non ho mai visto chroma potion tipo c'è un menu potete settare le particelle e l'altro l'ultimo era memory fix ragazzi la memory fix serve per quando caricate i mantelli della optifine in una lobby e poi andando avanti a giocare per tanto tempo tipo giocate 3 ore e cambiate di continuo lobby soprattutto nelle modalità in beta nelle nuove modalità vi carica una marea di mantelli questo vi occupa ram nel modpack nel computer in generale nella sessione che avete aperta al momento e vi causa lag a lungo andare e come lo potete vedere premendo f4 nel mio modpack c'è qua la lista di memoria se lasciate andare tanti cappelli per tanto tempo quel counter aumenterà adesso io ce l'ho a 40 farà dei pick da 90-100 e vi farà inchiodare minecraft per qualche millisecondo e voi sarete costretti a chiuderlo e riaprirlo per non farlo c'è la memory fix è un ottimo mod boom poi boom mouse delay fix optifine player happy ok mouse delay fix serve a far sì che il mouse sia uguale alla 1.8.9 optifine serve a zoomare nonché a cambiare gli fps qua in video setting no option video setting performance unlimited potete fare quello con la optifine oltre a selezionare video setting vi cambia quelli di cose e cambia molto potete zoomare bellissimo zoomare ragazzi soprattutto per quando dovete fare delle clip è molto divertente ok la player happy la quick play e la level head ok la player happy ragazzi serve a caricare le informazioni dei player e quindi è una mod che serve praticamente a quello a caricare le informazioni dei player ad esempio c'è la level head che è questa qua che vedete questo player è un livello 8 questa ragazza panda girl è un livello 8 nella guild dei bleach quindi va bene questo fa la level head e la quick play ragazzi è la mod che mi vedete in tutti i video che io ho settata sul tasto r vi permette di cambiare modalità velocemente ho parlato anche col creatore della level head adesso se vedete io cambio vado dalla lobby 1 nella frissura versione ci sarà anche un tasto che vi permetterà direttamente di andare alla lobby degli skyward senza fare il tp due volte e vi tipperà direttamente se ne so volete andare alla lobby a caso ci sarà un tasto per quello così non vi fa il tp due volte grazie buggy frot per quello poi mouse delle fix fa il pvp della 1.8 1.7 nella 1.8 quindi muovete il mouse un po' meglio sound filter ragazzi è la mia mod bellissima che mi permette di di avere suoni migliorati chi ti passa a destra a sinistra si sente soprattutto nelle caverne nelle UHC champions si nota un grandissimo miglioramento riesco sempre a farlo vedere da qua leggermente se c'è una mystery box però è meglio sinceramente perché da qua si sente poco comunque migliora tantissimo i suoni di minecraft poi abbiamo la time changer che cambia il tempo basta fare slash day slash night slash set day slash set night potrebbe esserci anche un cycle la la toggle chat e la vanilla enchantment toggle chat e tc vi permette di selezionare la chat se state streamando vi fanno casino o comunque avete delle persone che avete chat reportato e non volete più vedere i loro messaggi togliete gli shout per esempio potete anche selezionare player singoli e questo è tutto e poi avete la vanilla enchantment che è l'ultima mod vanilla enconfig econfig ce l'ho fatta wow vanilla enchantment config eccola qua molto importante ragazzi si un paio di cose sprint fov movidi fire se lo volete togliere se volete un fov diverso io ho questo slowness se ho la slowness il mio fov deve rimanere uguale perché non la slowness scusate la blind qualcosa del genere può fare il mio fov il mio fov il mio fov il mio fov ce l'ho con l'altro trigger se non potete fare un sacco di cose utili da qua avete anche gli add degli status delle pozioni ma se volete preferite un'altra mod va bene lo stesso io ho queste qua quando fate vi fa vedere le distanze rendere red hitbox tutte queste cose bianche vuol dire che attivo disattivare attivare facilissimo e boom tutto qua ragazzi questa mod è veramente importante creata dallo staff di ipixel per gestire meglio il server e e boom io ho anche in clear chat ecco forse questa è l'altra che che vi può interessare per aver lasciato uguale a me ok boom vi ricordo f4 tr snt display vhc champions vedete le coordinate boom f4 tolto easy ragazzi questo è tutto e spero il video vi sia piaciuto ci vediamo domani arrivederci ecco ciao